Visita istituzionale del Console Generale a Napoli degli Stati Uniti d'America, Columbia Barros, a Palazzo del Carmine. Columbia Barros è stata nominata lo scorso 30 luglio in sostituzione di Donald Moore. La diplomatica americana si occuperà della giurisdizione dell'Italia meridionale, ossia della Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ha iniziato la sua carriera nel 1989 e attualmente ha il grado di consigliere. Ha lavorato nelle ambasciate di Santo Domingo, Madrid, Buenos Aires, Lima e Parigi. Il suo ultimo incarico è stato quello di Console Generale ad Haiti. Quello che ho trovato, essendo la prima visita, si sente come essere a casa con amici. Io ho trovato tutti molto gentili, accoglienti. Io prendo questa opportunità per conoscere meglio la Sicilia, per conoscere i leader delle istituzioni e rinforzare la mistizia che c'è tra i due paesi. Questo è molto importante sempre, ogni giorno, di sapere dove sono, chi sono gli amici nel mondo. In occasione della visita del Console degli Stati Uniti era presente di fronte al Palazzo del Carmine anche una delegazione del Comitato NUMUOS. La nostra presenza è sempre motivata dalla nostra più ferma opposizione al MUOS, la nostra più ferma opposizione ai venti di guerra che in questo momento agitano il Mediterraneo. Il MUOS e le basi siciliane diventeranno uno strumento di morte ancora una volta che insanguilerà l'acqua del Mediterraneo. Siamo stanchi, siamo stufi, vogliamo che sia immediatamente revocata l'autorizzazione alla costruzione del MUOS, vogliamo che la Sicilia sia una terra di pace e che vengano smandellate le basi missilistiche, le basi militari americane sul nostro territorio. In merito alla vicenda a MUOS, il Console Generale a Napoli degli Stati Uniti ha voluto sedare gli animi dando rassicurazioni. C'è uno studio della sanità italiana, ma posso anche dire che io abito a Virginia, ci sono a Virginia, Virginia è uno stato molto conservatore che ha molte molte regole. prima di avere queste stazioni satellite, eccetera, ci sono studi e non ci affettano queste cose se non è buono per la salute. Stessa cosa a Hawaii. Io pensavo infatti che forse Hawaii, che ha una storia antica di reggi, eccetera, è in una certa maniera simile alla Sicilia, è un'isola bellissima dove vengono molti turisti e che ha anche accettato un ruolo importante nella comunicazione. Perché io sono madre anche e io conosco come è mia figlia a 13 anni. Io penso alla sua salute e come rappresentante del governo mi sentirebbe male verso mia figlia di dire qualcosa a una madre, a un'altra madre, che io non direbbe a mia figlia.